Bersaglio colpito! WAKNO! Colpo esplodo! Colpito! WAKNO! Bersaglio! FIRE! 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 Grazie a tutti. 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 Awesome. Grazie a tutti. Colpito. Colpo esplodio. Colpo, colpito. Colpo, colpito. Colpo di sfogato Attacco d'orsiglieria imminente Versaglio colpito Carro armato a ore 12 Distanza 500 Attacco d'orsiglieria coordinate Bravo 5 Eliminare Bravo 5 Ricevuto Aprire il fuoco Carro armato a ore 12 Distanza 500 Attention to the delegated clip zone Avanzare Avanziamo Garro armato Attention to the map Colpito Carro armato a ore 10 Abbruzzo pelo Versaglio colpito Enemie forces have captured a zone Attack the sea point We're ahead of the enemy Sea point We're ahead of the enemy Carro armato a ore 10 In prossimità Colpito Attention to the delegated clip squad Fuoco Versaglio colpito Carro armato a ore 11 In prossimità Colpito 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.